ciao a tutti ragazzi siamo Altina e Remo e benvenuti in questo nuovo video Reaction. Allora oggi sono capi a fare l'ultima reaction all'ultimo episodio di Pokémon Polarai Winx. Finalmente ce l'ho fatta. Allora questa qua è Poppy, questa qui è la ragazza fantasma, questo qua è il primo cavo palestra, eccolo qua il campione di Galar, qua sta anche i bambini che abbiamo conosciuto nel primo episodio, questo qui è il loro master, il loro campione preferito, il loro personale preferito, la loro celebrità, che da sempre sogno ad incontrarlo. Il sottotitolo in italiano? Cos'è una lettera? Un regalo? Eccolo. Forse il bambino si sta sognando? Esatto. Non c'è nessuno. Ah si stava sognando. ci rimane male. Speriamo un po' di non beccare i copyright anche in questo episodio perché altrimenti è uscito un episodio extra di Pokémon Polarai Winx. di Pokémon... il titolo... non ve lo ricordo... come si chiamava... non me lo ricordo... magari ve lo scrivo qui... devo dire che è veramente bello la grafica... è veramente... sono molto interessanti questi episodi... trovo questo qua è l'ultimo... magari usciranno altri non lo so... questo qui è il suo allusinatore... così l'ho definito lui... mi sfugge sempre il nome... eccolo... questo desiderio è diventato realtà... è... in realtà in questo titolo non riesco a leggere vediamo se se la possibilità avete visto wow questo risveglia di entrare realtà questo vuol dire che bisogna sempre rincorrere i propri sogni e non non morare mai perché se è una cosa si desidera dal profondo del cuore alla fine diventerà realtà quindi cerchiamo sempre di non perdere di vista i nostri obiettivi e nonostante questo bambino fosse in ospedale ricoverato è riuscito comunque sia a incontrare il suo grande campione il campione di gara adesso non riesco a leggere i sottotitoli perché sono in minuscolo ma voi spero riusciate a leggerli dovrebbe essere in italiano se non mi sbaglio sì 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 sono in italiano questo qui che era anche l'episodio che devono più di tutti molto molto bello lo abbiamo quasi finito il nostro personaggio antagonista come abbiamo visto nella serie portano e nel video games l'ha portato allo stadio qua ha capito ragazzino sognava di questo qui un cavo palestra dovrebbe essere ma forse vorrei il fascista un incontro il fascista che abbiamo quasi finito oh wow ragazzi che bello praticamente dove ha iniziato tutto sicuramente perché non scoprirai qua che non è incredibile è contento è commosso dai grande perché qua ci sono i vecchi personaggi che già abbiamo incontrato negli scorsi episodi ecco qua che butto via il ok l'incontro tra il campione in tua palestra ecco qua ecco qua ecco qua cioè diventa giga max eccolo qua ragazzi non ho parole trema tutto ok che potenza che ha sempre avuto dei potenziamenti se anche tutte le serie mega evoluzione massacità tutto il gigamax ragazzi è finito manca ancora qualche minutino ma intanto inizio a salutarvi spero di non beccare il copyright perché nello scorso episodio che ho caricato l'ho beccare con una lavorata e poi intanto anche mai che l'altro sicuramente perché non è qua fare in modo con questo di pubblicarvelo e niente allora io vi ringrazio per la visione aspettiamo ancora qualche seconda che si chiude e siamo quasi 2k mi raccomando spollizzate iscrivetevi e non da ragazzi prossimo al prossimo video doveva essere finito bella ragazzi ciao 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 ciao